Noi lo facciamo proprio per questo, proprio per riuscire a intaccare questa sorta di velo culturale che c'è attorno anche alla musica stessa. A Rosarno c'era tanta gente da tutta Italia, ma mancavano per strada i rosarnesi e i ragazzi che lavorano nei campi, è un'occasione perduta. Sono occasioni che si perdono perché l'approccio a queste problematiche è un approccio in genere piuttosto superficiale, bisogna andare a fondo, come bisogna andare a fondo anche ai testi della musica, quindi dipende proprio da questo. E Mattanza cosa seguiranno questa sera? Ho qui proprio la scaletta, non so se ti interessa, allora, Nesci Suli, Ricche e Poveri, Un Spagno di Borboni, Mundo a Scali, Mattanza, Vittina Crozza, Cicculatere Pittinissa e Un Servo e Un Cristo. Cercheremo di andare anche noi a fondo dei testi allora oggi. È fondamentale.